video breve ma intenso volevo farvi vedere questo video perché c'è una cosa molto interessante da vedere ovvero la presenza di questo funghetto qui che sarebbe il fungo dell'inchiostro che è un fungo saprofita che ama molto i terreni ricchi di sostanza organica ricchi di humus di vero e proprio struttura del suolo una struttura che ritorna a vivere e volevo mostrarvi che questo fungo sta crescendo in mezzo alle barbabietre cioè nell'orto quindi che vuol dire che io la nostra azienda sta facendo un ottimo lavoro di rigenerazione del suolo e i funghi sono la prova materiale che si sta svolgendo un'ottima rigenerazione e come vedete sta crescendo proprio in mezzo a le barbabietole e questo non può che che darmi solamente una grandissima soddisfazione quindi se crescono funghi nel vostro terreno è segno molto buono grazie a tutti grazie a tutti